ed eccoci arrivati al tanto agognato Leopard 2 A7V l'ultimo arrivato nel ramo tedesco come battle come top tier al massimo battle rating come vedete il modello è stato assolutamente migliorato adattato fatto detto a tutte le specifiche delle Leopard 2 A7V ha il contenitore messo qui sopra per le armi dell'equipaggio alla modifica della parte posteriore del sistema di raffreddamento dell'elettronica tutti gli ammennicoli vari soprattutto ha la corazza frontale dello scafo migliorata ma non vi non gridate il miracolo perché si vi aiuterà ma non fa miracoli in ogni caso io mi ero il carro è già parzialmente fullato diciamo che ho sbloccato le cose che ritenevo più interessanti come le sospensioni i filtri il motore la trasmissione la devo ancora sbloccare ovviamente i proiettili dm 53 che sono i proiettili top tier e piano piano sto sbloccando tutto il resto devo dire devo dire che nonostante quello che avessero detto cioè circa la mobilità del carro effettivamente considerando che non ho tutti i moduli relativi alla modalità della mobilità del carro devo dire comunque il carro alla fine a dispetto delle sue 70 passa tonnellate sui campi di gioco di war thunder tutto sommato va abbastanza bene l'ho aggiunto la main protection non tanto perché nel gioco ci siano le protezioni ma perché come vedete aggiunge una protezione aggiuntiva sulla sulla parte sulla parte inferiore dello scafo soprattutto nella zona anteriore quindi quando scollinate vi dovrebbe aiutare quantomeno non dico a parare tutti i colpi perché sarebbe troppa grazia ma quantomeno a parare ogni tanto qualcuno che magari arriva un po più angolato un po più di schiscio e quindi non riesce a esercitare tutto il massimo sistema di penetrazione l'equipaggio è al top l'equipaggio è assolutamente al top da notare il nuovo thermal di terza generazione che è soprattutto anche sul cannoniere e non solo attraverso il sistema di mira del comandante devo dire che questo probabilmente è una delle feature più interessanti di questo modello quindi vediamo un po come si comporta sul campo di battaglia andiamo in ground realistic e vediamo cosa salta fuori cosa si riesce a fare vediamo un pochino vediamo un pochino vediamo cosa riusciamo ad ottenere da questo carro ovviamente come sempre la mappa non è quella che mi è più congeniale non esce la mappa che questa è una mappa che francamente non mi fa impazzire infatti lo vedrete all'inizio io non andrò assolutamente a cappare mi fermo in un punto ben deciso a sniperare d'altro canto perché non avvantaggiarmi dell'aumento di corazza e del miglioramento del sistema di mira a questo punto tanto vale approfittarsene ovviamente ho sbloccato il telemetro laser perché comunque è imperativo è imperativo ai battle rating alti stimare anzi col telemetro la misurate letteralmente cioè proprio stimare o misurare correttamente la distanza nel più breve tempo possibile quindi vediamo qua vediamo attiviamo subito il thermal come vedete la risoluzione grafica di un thermal di terza generazione è veramente un altro pianeta lì si muove qualcuno ma mi è mancato miseramente come vedete mi ha colpito mi ha dalleggiato l'anello della torretta però però non mi ha detonato il carro di questo possiamo essere estremamente felici quindi ora vediamo un po' ora il grande dubbio farsi sotto nuovamente considerando che quello potrebbe essere quell'avversario potrebbe essere ancora lì ad aspettarmi oppure andando ci facciamo sotto nuovamente lì non c'è più nessuno si è spostato cos'è un t72 b3 no ok mi hanno incendiato le munizioni poco male vediamo se no questo fuoco non lo possiamo estinguere però tutto sommato il carro è ancora lì guardate che bello brucia come una fiaccola natalizia ragazzi fantastico aspettiamo un pochino e poi andiamo a riparare certo brucia un bel po' ragazzi e come? ricominciare a bruciare ma come? che bello vediamo quanti proiettili mi sono rimasti sei colpi e vabbè mi sa che me li devo fare bastare mi sa che me li devo fare bastare va bene poco male il carro è ancora integro certo dire lei che abbia fatto chissà cosa in questa partita lo ammetto vediamo un po' a questo punto l'obiettivo è farsi sotto andare a cappare C così quantomeno posso caricare anche un po' di munizioni vediamo vediamo siamo ancora in gioco non abbiamo avuto nessuna perdita non che mi faccia piacere avere il il carro mezzazzoppato però va bene finché c'è oh 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 come vedete cioè sto prendendo una discreta quantità di colpi eppure il carro resiste certo questo da oh 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 via 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 no il secondo colpo non me lo faccio sparare vediamo un pochino ora lui magari ringalluzzito alè un TX cos'è un T80 BVM detonato va bene ottimo va bene a questo punto ci facciamo sotto su Charlie hanno pizzicato tutti e non è una bella cosa e qui cambia tutto come direbbe il grande checco Zalone e qui cambia tutto va bene vediamo oh 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 peccato non avevo ancora ricaricato va bene eh mi hanno accerchiato io ero convinto di essere al coperto si era al coperto da quel T90 mentre non mi sono accorto che c'era un M12 che mi aveva fiancheggiato va bene vediamo possiamo spawnare ancora quindi a questo punto tiriamo fuori un Leopard 2 nuovo di pacca e vediamo cosa succede allora vediamo mi devo muovere con circospezione regolare sui 350 devo fare attenzione perché c'è sempre quel T90 in giro che potrebbe decidere di giocare al tiro al bersaglio col sottoscritto vediamo 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 andiamo ad agio andiamo ad agio andiamo ad agio ok hanno pizzicato il T90 con un attacco aereo regoliamo l'alzo perché non si sa mai l'abrams è ancora in giro ma non credo credo che sia uno di quei cosi rossi allora cerchiamo di andare su Charlie tenendo presente che da questa parte potrebbe esserci qualcuno perché l'ho intravisto nella mappa allora facciamo attenzione questo non è la condizione migliore per giocarsela ma va bene io mi allontano cambio completamente zona perché se c'è l'avversario che mi aspetta lui magari si aspetta di trovarmi in una determinata zona invece sono in un'altra vediamo un pochino nel frattempo è vero che qualcuno mi ha raggiunto e che schifo non mi fa lo ammetto vediamo mi do un'occhiata in giro mi angolo di più per cercare di farmi coprire da queste case ragazzi ragazzi attenzione quando state in queste case perché non tutte fermano i proiettili non mi ricordo quali ma non tutte fermano i proiettili va bene zone captured e a questo punto non so esco dal villaguetto oppure ma proviamo a dare manforte al tipo uno no l'ha pizzicato va bene ok bravo ottimo ancora c'è tanto da fare c'è tanto da fare allora vediamo piano piano più che altro la paura è di finire sotto qualche attacco aereo ma eh lo sapevo ah mannaggia non gli ho fatto praticamente niente e lui mi prende sul fianco eh vabbè eh vabbè ho sbagliato io ho sbagliato io non ho avuto la prontezza ma ci sta a quella distanza ci sta assolutamente ci sta assolutamente ci sta assolutamente va bene cambiamo mappa più che altro perché voglio fare un video sull'eopart 2 a7 non tanto per fare chissà quale gran partitone figuriamoci andiamo avanti ok vediamo cosa salta fuori lì ragazzi non è demerito del mezzo ma sono stato io lento a reagire e soprattutto ho sbagliato a prendere la mira non ho non ho preso la mira nel nel modo nel punto giusto quindi lì non posso dare la colpa al mezzo assolutamente me ne assumo la mia responsabilità quindi mappa normandy ok bisogna tenere io preferisco giocarmela su questa zona questa diventa un collo di bottiglia diventa un massacro allora vediamo un po' cosa si riesce a fare generalmente preferisco allargarmi su questo fianco guardate che bello con questo effetto nebbia guardate come figo il modello irto di dettagli 3d è veramente grandioso nel frattempo ragazzi sto cercando di sbloccare anche l'ultimo abrams anche se lì ho un po' il dente avvelenato perché ha un munizionamento che veramente sembra veramente fatto apposta ora per carità non voglio cominciare con i soliti complottismi però voglio dire almeno gli m829 a 3 glieli potevano dare va bene cerchiamo di capire ovviamente il thermal di terza generazione aiuta tantissimo soprattutto a provare a sgamare i nemici fra le fresche frasche scusate io le chiamo fresche frasche però è un modo come un altro oh 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 ale e non gli ho fatto niente allora subito fumo inutile 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 mettersi a tu per tu notate che fuoco di fila che c'era io continuo a sparare notate che comunque mi hanno colpito adamant ragazzi adamant io continuo a sparare per mettermi in una posizione di vantaggio qui ho sbagliato ragazzi i fumogini ci sono perché bisogna usarli e niente ragazzi alla fine mi hanno pizzicato ma ci sta ragazzi erano in tre che mi sparavano di tutto di più ci sta ragazzi assolutamente come vedete c'è sempre quell'angoletto però lì effettivamente a quella distanza il leopard è penetrabile ovviamente io seguo il consiglio di portare poche munizioni non ha senso portarsi 30 40 50 proiettili eccetera perché tanto non li sparerete mai in una partita e aumentate il pericolo di detonare brutalmente quindi 20 colpi 21 colpi e passa la paura ora cerchiamo di dare una mano al pso ok ottimo e vabbè però sono troppi ragazzi sono troppi niente la culatta danneggiata non c'è verso vabbè ragazzi angolato non c'era verso ragazzi impossibile sopravvivere in queste condizioni però notate come all'inizio ha subito tutta una serie di colpi senza colpo ferire poi ovvio ragazzi non si possono fare miracoli non si possono fare miracoli va bene facciamo un'ultima partita e poi cominciamo a tirare le somme io come vedete ragazzi sono partite in presa diretta perché secondo me fare il classico video con il montaggio video eccetera eccetera e poi magari capita la partita fortunata no dove magari distruggete 10 carri e su quella si fa il video per dire ma quanto è figo il Leopard 2 a 7000 no non serve a niente e prendere in giro i giocatori io preferisco farvi vedere 2-3 partite in presa diretta e poi su quello magari possibilmente si tirano si tirano le misure insieme ragazzi diffidate sempre se il video è montato perché se il video è montato vabbè bravo io monto i momenti migliori delle partite o monto la partita migliore che magari mi riuscì magari ho fatto 10 partite 8 partite ho fatto schifo il carro ha fatto schifo poi in 2 partite faccio una strage e su quello ci faccio il video no ragazzi non ha senso non è un video per parlare di non è una review del mezzo quello è una presa in giro e basta allora veniamo un pochino sempre termal attivo alzo del cannone tirato a 350 metri perché più o meno la distanza media di ingaggio sono fra i 200 e i 300 metri vediamo un po' avanziamo nella boscaglia cerchiamo proprio perché io avanzo sempre sul lato della mappa tutte le volte che posso perché almeno so di avere un lato coperto ok almeno so di avere un lato coperto ok perché non sto spugando cosa sta su ecco ok ero andato completamente fuori mappa non me ne era accorto ok vediamo un po' questo cos'è perforato frontalmente ok challenger 2 test perforato frontalmente tre volte alla distanza di circa 250 metri t72 b3 questo però l'ho preso sulla fiancata ragazzi t72 turbs ma il t72 turbs per un leopard 2 a7 è un giocattolino da sfondare è molto più il t72 turbs basta anche un leopard 2 a5 per massacrarlo non è tutto ecco mi hanno pizzicato giustamente a fare avanti e indietro avanti e indietro tanto va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino ma va bene abbiamo fatto 3 kill la manovra di aggiramento su questo lato della mappa ha funzionato va bene appena smettiamo di bruciare come un candelotto non capisco se sto continuando a bruciare perché mi colpisce qualcuno mi stanno arrivando proietti da tutte le parti quindi mi sa che ah vabbè no ci hanno preso sul fianco infatti è detonato anche il tipo che stava vicino a me vabbè ragazzi quello che però come vedete è vero che il carro è inservibile ragazzi cioè è inutile che ci pigliamo per il culo però notate come ancora stia resistendo e se ci fosse stato qualcuno vicino per aiutarci saremmo usciti anche da questo casino io giusto per rincreare la dose metto un fumogeno perché più tempo perdono a sparare a me meno sparano a quelli della mia squadra va bene ragazzi spawniamo questa volta voglio provare a giocarmela dall'altra parte della mappa giusto per farvi vedere un'altra giocata totalmente differente ma qui hanno praticamente sfondato fondamentalmente peccato allora lo mettiamo sempre sui 350 qui c'è qualcuno che scollina cerchiamo di allontanarci ma mi sa che la partita è compromessa attiviamo il thermal ma mi sa che la partita ragazzi è compromessa vediamo giriamo provo vediamo se riesco a sorprenderlo sul fianco cosa peraltro difficile perché io magari vedo questo no l'hanno fatto fuori ottimo e allora cambiamo di nuovo zona cerchiamo di capire qua c'è il cimitero dei carri quello è distrutto vediamo leviamo il thermal eh sì rimettiamo il thermal caspita ho incasinato con le visuali vediamo 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 eh un cimitero però eppure ah vabbè comunque anche l'altra squadra ha avuto le sue brave perdite va bene vediamo se un panzi rabbiamo abbiamo preso un altro colpo sempre fuoco fumogeno estintore eh no niente ragazzi ci hanno preso proprio sul fianco alle spalle e questa volta mi sa che non me ne esco tanto a buon mercato ragazzi anche perché continuo a colpirmi già mi sono preso tre cannonate vediamo angolo un po' la torretta non si eh vabbè mi colpiscono da due direzioni adesso qualcosa a tiro automatico eh vabbè ragazzi ah è un bmp2m quello è un maledetto ragazzi che dire e come vedete il carro in sé è in non so neanche se continuarla questa partita ma si dai diamo una mano alla mia squadra allora parlando del del Leopard 2 a 7 come vedete è in grado veramente di eh ricevere eh come si sul dire a lot of punishment c'è un bel po' di danni ok cosa che invece il Leopard 2 a 6 no va bene ci sta una cannonata diretta a quella distanza con una pfsds sfiderei chiunque a resistere quindi per carità lì ci sta tutto challenger 2 questo mi sa che si è legato al dito ragazzi vediamo un po' se riesco a sfruttare l'invulnerabilità nello spawn ah non si vedeva però l'abbiamo polverizzato cosa abbiamo ah un challenger 2 in realtà quella di serrare così tanto sul respawn della squadra e qui lo possono fare perché il rischio che la squadra vinca la mia squadra vinca non c'è nella normalità è un errore perché perché si va bene tu sei figo arrivi sullo spawn nemico comincia a distruggere i mezzi però poi tutti quelli che sparano dopo hanno la protezione dello spawn cioè per 20 secondi sono praticamente se stanno fermi per 20 secondi sono praticamente vulnerabili ok quindi non conviene magari tenere lo spawn nemico sotto tiro da una distanza o da un punto dove qualcuno si può nascondere potete avere un riparo io vedo che spesso e volentieri molti si ringalluzziscono siamo arrivati sullo spawn nemico e poi praticamente la squadra viene piallata in contropiede e a quel punto non c'è più verso di recuperare la partita allora alcune normalissime considerazioni sull'eopard sull'eopard 2 a 7b allora per me è un gran veicolo se ne mancava avete visto quello che riesce a sopportare certo poi alla fine i danni entrano ma è normale che i danni a un certo punto cominciano a entrare ci sta non può essere inserito in gioco un cararmato che è quasi totalmente invulnerabile non ha senso non avrebbe senso il gioco deve essere bilanciato eccetera 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 allora a livello di mobilità il carro tutto sommato nonostante ancora non abbia la trasmissione nonostante non abbia i cingoli iniziali devo dire che tutto sommato come mobilità ne va ben d'onde assolutamente a livello di protezione allora sicuramente rispetto all'eopard 2 a 6 e anche rispetto all'eopard 2 a 5 pso o leopard 2 pso il leopard 2 a 7b effettivamente offre è un quid in più di protezione ma come avete visto non diventate invulnerabili la potenza di fuoco è la stessa dell'eopard 2 a 6 stesso cannone stesse munizioni quindi lì francamente non hanno aggiunto nulla quello che però esalta la potenza di fuoco è il thermal di terza generazione direttamente sulla postazione del cannoniere che facilita di molto di molto il gioco ovvio dovete avere occhio dovete avere senso tattico dovete avere anche una certa dose di culo che non guasta mai ragazzi che non guasta mai allora io sono molto contento dell'eopard 2 a 7b mi sta regalando un sacco di belle partite ovvio non si possono vincere tutte ma ricordatevi che l'obiettivo non è tanto vincere tutte le partite ma di cercare nella maggior parte delle partite di fare un'ottima prestazione cercarvela di giocare meglio a volte come vedete su due partite tutto sommato il mio danno l'ho fatto nella terza insomma così così nella terza nella seconda quella di mezzo così così ovvio ci sono delle mappe che sono più congeniali delle mappe che sono meno congeniali i moderni MBT non sono fatti per il combattimento urbano però ragazzi è come una mano di poker le carte in mano sono queste e con queste bisogna giocare la partita ragazzi che dirvi queste ovviamente sono i miei pensieri i miei giudizi poi fate voi provatelo usatelo per me il carro è promosso dall'alto della mia esperienza di gioco posso dire che rispetto a ma questo in realtà i leopard in generale rispetto per esempio agli Abrams sono un pelo più resistenti un pelo più ostici da mettere KO soprattutto se riuscite a posizionarvi in modo da lasciare scoperta solo la torretta già i leopard 2 a 5 e i leopard 2 a 6 e anche il PSO giocati scafo sotto quindi all down diventano delle noci di cocco molto dure da spaccare il leopard 2 a 7 acquisisce qualcosa di più anche il livello di protezione dello scafo perde qualcosa in mobilità ma il giudizio è positivo il giudizio sul mezzo è assolutamente positivo quindi che cosa vi posso dire ragazzi prendetelo grindatelo prendetelo giocatelo e divertitevi perché veramente almeno in questo momento non è forse il migliore in assoluto ma è uno dei veicoli che può tranquillamente dominare il campo di battaglia non è non è facilissimo in immediato da giocare però non è nemmeno chissà cosa io veramente mi sto trovando molto bene e come avete potuto vedere non è nemmeno tutto fullato ragazzi da Red Comet una buona serata dal bar di Red Comet una buona serata vi auguro assolutamente buone feste buon grind per i vostri veicoli preferiti quindi io vi dico ragazzi per chi ce l'ha o per chi commentate 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 fate domande vediamo un po' che discussione ne esce fuori detto questo il bar di Red Comet vi saluta e di nuovo vi augura buone feste